A Milano i contagi tra i banchi di scuola rimangono stabili, confermando il trend positivo delle settimane precedenti. Tra il 27 settembre e il 3 ottobre, infatti, la TS Città Metropolitana ha ricevuto la segnalazione di 130 casi di tamponi positivi, in linea con il periodo precedente in cui i nuovi contagi erano 132. Si tratta di 113 alunni e 17 operatori, 4 sono del nido, 19 della scuola dell'infanzia, 54 della scuola primaria, 20 della secondaria di primo grado e 33 di quella di secondo grado. In lieve diminuzione anche il numero delle persone isolate perché contatti stretti dei contagi, che cala da 2.195 a 2.072, di questi 2.007 alunni e 65 operatori. Anche le classi in isolamento diminuiscono, sono infatti 86, 17 tra nido e scuola dell'infanzia, 30 della scuola primaria, 16 della scuola secondaria di primo grado e 23 di quella di secondo grado. Ma se la situazione nella TS milanese rimane stabile e non desta preoccupazione, diverso è il quadro dei contagi nelle scuole lombarde. I positivi nelle aule del territorio regionale infatti raddoppiano per quasi ogni fascia di età, tranne che per le superiori dove l'aumento è lievemente più contenuto. Tra i più piccoli, dagli 0 ai 2 anni infatti, i positivi salgono da 34 della settimana precedente a 63 di quella dal 27 settembre al 3 di ottobre. Tra i bambini dai 3 ai 5 anni l'aumento passa da 43 a 107 contagi, nella fascia 6-10 da 101 a 198, in quella 11-13 sono 95 contro i 47 del periodo scorso e infine tra i più grandi dai 14 ai 18 anni si è passati da 64 a 109 positivi, numeri che crescono ma che ancora sono ben lontani dai picchi dello scorso ottobre quando si registravano anche 700 casi ogni 100.000 abitanti tra i più giovani e quando poi dopo poche settimane si è tornati al lockdown nazionale.